Ascoli Picchio K o anche a Perugia, a vincere sono stati nuovamente i tifosi hanno dovuto masticare mare circa 800 tifosi bianconeri che allo stadio Renato Curi di Perugia hanno dovuto assistere, in un freddissimo lunedì d'inizio dicembre, alla nona sconfitta stagionale dell'Ascoli Picchio, la quinta nelle ultime sei partite. I sostenitori del Picchio hanno incitato come al solito la squadra dal primo all'ultimo minuto, salutandola al termine di una gara decisa in extremis dal fantasista perugino Falco. Non sono mancati nuovi cori nei confronti della dirigenza al grido di, questa società non ci merita.